Questa sì che è una giornata favolosa, con la luna in tricono a Giove in se stile a Mercurio e Urano, il giusto mix di intuito e logica, che vi permette di cavalcare qualsiasi situazione con animo sereno e piglio vincente Amore d'Eros, il segreto della vostra intesa è la condivisione, vi piace fare tutto insieme, dalla colazione da preparare ai pupi da portare a scuola Benasci, famigliare ben organizzato, perciò i figli sono sereni e le vostre carezze tenere sgombre da sospetti Qualche sogno nel cassetto di cui parlare la sera, magari il lungo viaggio a trovare un parente in Argentina o l'iscrizione a Oxford di vostro figlio cervellone Lavoro e denaro, se siete nel ramo commerciale, su con la vita, oggi concludete affari favolosi Buona giornata anche per gli insegnanti, gli impiegati, i venditori e tutti coloro che lavorano a contatto con il pubblico Simpatia dialettica agli assi di quadri nella manica, in più avete buon gusto, intuito e resistenza alla fatica Benessere, informissima, mantenetevi così andando al lavoro a piedi o in bici, scarsina invece la vitalità serale, inutile sforzarvi a uscire la sera per poi cascare dal sonno o abbioccarvi al cinema Tanto vale leggervi un bel romanzo dove non arriverete, comunque, oltre pagina 10, e buonanotte Grazie